ok ok ciao a tutti ragazzi adesso aspettiamo un attimo che entri qualcuno che si colleghi qualcuno ci diamo un minutino di tempo ok comunque oggi parliamo di importazione quindi tipologie e metodi di importazione vediamo vi spiego esattamente cosa dovete fare cosa vi consiglio di evitare di fare poi ovviamente la scelta sta a voi vi consiglio i metodi che utilizzo io che funzionano che fino adesso mi sono trovato bene perciò ve li consiglio intanto comunque aspettiamo che entri qualcuno poi comunque chi non si collega se la guarda diciamo indifferita quindi se la guarda si guarda il replay una cosa che dico adesso se avete delle domande fatele sotto la live io cercherò di rispondere nella live successiva ciao benvenuto e quello che è esatto quello che stavo dicendo se avete delle domande oppure degli argomenti che volete che vengano trattati all'interno di questo canale oppure direttamente nelle live scrivetemelo qui sotto nei commenti io cercherò di fare delle live oppure dei video a parte nel quale spiego quello che voi avete da chiedere ok perciò faccio per voi non sprecate questa opportunità comunque vi ricordo anche sempre di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto perché ci sono un sacco di contenuti e informazioni molto molto utili se è il vostro obiettivo è di fare Amazon FBA allora benissimo oggi parliamo di importazione come ben sapete sicuramente esistono diverse tipologie di importazione tipologie e metodi di importazione dalla Cina io dico dalla Cina perché si usa più comunemente importare dalla Cina quindi tramite Alibaba noi compriamo prodotti dalla Cina poi li importiamo nel paese in cui noi vogliamo andarli a vendere quindi nel marketplace diciamo di riferimento che sia Italia che sia all'interno dell'Unione Europea in generale comunque esistono principalmente quattro tipologie e metodi di spedizione adesso li andiamo a elencare tra l'altro cambio la schermata tra poco così vedete quello che vedo io faccio vedere esattamente faccio vedere e vi spiego esattamente i principali metodi principali tipologie di spedizione e alla fine del video ovviamente vi do anche qualche consiglio personale quindi i stessi metodi che utilizzo io quando utilizzo uno piuttosto che un altro e spero davvero di esservi di aiuto allora cambio un secondo la schermata qui adesso vedrete la seconda schermata ok perfetto adesso dovreste vedere quello che vedo io perfetto eccoci qua ok qui abbiamo una serie di incoterms cosa sono i incoterms? sono tipologie di spedizione tutte queste cose qua sono tutti incoterms di spedizione questa tabella qua intanto io vi lascio il link di questa tabella qua così potete andarvela a vedere adesso ve la spiego come funziona ve lo lascio qui sotto in descrizione comunque su google se lo cercate bene lo trovate non ci sono non ce ne sono tantissime fatte così bene però trovate anche questa comunque se non utilizzate il link vi lascio qui sotto in descrizione ve l'ho messo a posta così che possiate vederla allora partiamo intanto su come diciamo di spiegare questa tabella perché se no non capite cosa vuol dire allora intanto qui vedete cose importanti che dovete vedere sono questo seller quindi la parte verde è seller venditore mentre la parte gialla è buyer o compratore quindi la parte verde la fabbrica cinese la parte arancione gialla siamo noi questa è una cosa importante perché qui vedete ci sono tutte queste linee e adesso andiamo a vedere cosa vogliono dire intanto riduco un attimo questa cosa qua allora partiamo io partirei dal primo metodo quindi dal più utilizzato scusate dal più utilizzato non dal più utilizzato dal più conosciuto forse ma non per questo il migliore assolutamente partirei da DDP DDP vuol dire è l'acronimo di Delivery and Duty Paid cosa vuol dire Delivery and Duty Paid che noi paghiamo in anticipo alla fabbrica cinese IVA e dazi doganali cosa sono i dazi doganali e beh l'IVA e l'IVA sull'acquisto del prodotto l'IVA l'IVA la dogana che dovremmo pagare poi in dogana mentre i dazi doganali sono le spese doganali le accise doganali ok noi le paghiamo in anticipo alla fabbrica se noi facciamo ovviamente spedizione di DDP le paghiamo in anticipo alla fabbrica e la spedizione quindi noi non dobbiamo fare niente in realtà perché pagando tutto in anticipo alla fabbrica ci arriva direttamente il prodotto a casa ovviamente se vi ricordate poco fa ho detto è il primo quello più conosciuto ma non per questo il migliore assolutamente no è una spedizione door to door quindi è comodissima qual è il problema il problema non sta nella tipologia di spedizione il problema sta nelle fabbriche perché le fabbriche adesso ci sono parecchi dibattiti su su questa spedizione di DDP il problema non è la tipologia di spedizione il metodo di spedizione è corretto funziona è un buon metodo di spedizione tuttavia ci sono delle fabbriche la maggior parte che per risparmiare quindi diciamo magari spendendo meno di di tazzi doganali fanno sdoganare la merce in altri paesi il problema dove sta il problema è che facendo sdoganare la merce in altri paesi voi e noi quindi e io compreso non riceviamo la bolla doganale che cos'è la bolla doganale adesso andiamo a vedere scriviamo bolla doganale così ok faccio un esempio si fattura di acquisto ma nuova è questo qua forse non è questa scusate ok questa qua è molto piccola no volevo farvi vedere un'immagine che non ne ho neanche una ve la volevo far vedere da qui c'è un'immagine vediamo se ok si comunque è una roba del genere adesso si vedrà veramente poco ingrandisco un pochino la pagina questo qui è un esempio di bolla doganale ok vedete questo qui è un esempio di bolla doganale nel bolla doganale ovviamente sono inseriti i dati dell'acquirente i dati della fabbrica quindi diciamo del di quello che ha creato la merce ok non dello spedizionario scusate del venditore quindi la fabbrica la tipologia di spedizione tutti i dati quindi inerenti al compratore che sono partita IVA che ci deve essere adesso parliamo anche di questa questione qua che si può iniziare senza partita IVA adesso ne parliamo bene perché e capite quanto è importante questa cosa poi stavo dicendo ci sono deve esserci la vostra partita IVA sulla bolla doganale deve esserci il metodo di spedizione i vostri dati il metodo di spedizione l'abbiamo già detto e tutti i dati relativi alla merce importata che diciamo che viene importata quindi la tipologia di prodotto il peso le dimensioni eccetera ok possiamo chiudere questa cosa qua torniamo qui ok quindi abbiamo visto un esempio di bolla doganale qual è il problema è che le fabbriche facendo sdoganare la merce in altri paesi quindi tralasciano questo passaggio della bolla doganale quindi a voi facendo DDP non per colpa del metodo di spedizione ma per colpa delle fabbriche non vi arriva la bolla doganale il problema è dove sta è che non avendo la bolla doganale la bolla doganale è uno di quei pochi documenti che se voi state partendo magari anche con un regime forfettario è uno di quei pochi documenti che voi dovete tenere a livello fiscale quindi nel vostro registro se voi siete in regime forfettario ci sono veramente pochi documenti che dovete tenere uno di questi è la bolla doganale in sostanza con la bolla doganale vai a dichiarare che quella merce su quella merce tu ci hai pagato l'iva ci hai pagato delle tasse quindi le accise doganali però non ricevendo la bolla doganale è come se tu quella merce l'avessi importata in nero e il problema non sta da nessuna parte se poi tu quella merce la vendi tra virgolette sotto banco cosa voglio dire che non fatturi su quella merce ma se poi tu fatturi su quella merce quindi vai a venderla online su Amazon quindi ricevi delle fatture da parte di Amazon sui pagamenti quindi su ciò che guadagni da questi prodotti venduti e c'è un'incongruenza perché diciamo il fisco lo stato italiano non sa vede che tu hai venduto queste cose hai fatturato questo ma non vedi da dove le comprate ok dice questa persona qua sta vendendo questo però non ha da dove le ha acquistate queste cose qua non si sa non c'è pagata iva non ci sono pagate da cisi doganali da zi doganali capite che è pericoloso andare a fare queste cose perché i controlli adesso magari se siete proprio agli inizi e gli inizi quindi il vostro primo ordine potete scamparla questa cosa cosa vuol dire che probabilmente non vi arriva nessuna segnalazione ma se la vostra attività è già avviata quindi magari siete al decimo ordine e non tenete la bolla doganale ok una segnalazione dall'agenzia dell'entrata e vi arriva è una cosa gravissima perché poi lì quando vi arriva una segnalazione quindi una verifica dall'agenzia dell'entrata e voi non avete il documento che loro vi chiedono quindi la bolla doganale sono soldi sono multe tanto 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 salate quindi assolutamente cosa voglio dire con questa cosa qua che il problema non è della spedizione è delle fabbriche le fabbriche che per risparmiare quindi per guadagnare di più sulla spedizione fanno sdoganare la merce in altri paesi e quindi non vi arriva la bolla doganale un'altra cosa che voglio collegare spesso spesse volte tantissime volte anche da gente che viene veramente venerata quindi di Amazon FBA di guru di Amazon FBA dicono che si può iniziare senza partita IVA però voi non potete importare della merce a scopo di lucro quindi che poi andrete a vendersi e a scopo individuale quindi magari se voi importate che ne so può essere qualunque cosa un computer un qualunque cosa potete sulla bolla doganale ci può essere il vostro codice fiscale ma se voi importate della merce quindi grandi quantità a scopo di lucro quindi andando a venderla non ci può essere il vostro codice fiscale ci deve essere la vostra partita IVA non potete importare quindi far passare dalla dogana della merce a scopo di lucro senza la partita IVA una cosa davvero impossibile non si può ok? non potete perché non è registrata quelle fatture dove arrivano a nome di chi se poi lo stato italiano vede che noi abbiamo venduto quei pezzi quindi abbiamo fatturato su quei pezzi non potete assolutamente iniziare senza la partita IVA sulla bolla doganale ci deve essere i vostri dati e il vostro numero di partita IVA e poi tutti i dati successivi quindi come ho detto prima tipologia di spedizione dettagli relativi al prodotto importato come dimensioni peso eccetera quindi qui sfattiamo proprio quel mito che si sente davvero spesso riguardo ovviamente a iniziare senza partita IVA che si possa iniziare senza partita IVA assolutamente no ok? punto c'è poco da dire vi ho dato una spiegazione se non ci credete chiedete a un commercialista e vi dirà la stessa cosa che vi ho detto io ovviamente magari con qualche termine più tecnico comunque questo qua era il primo metodo di spedizione quindi primo incoterms prima tipologia qual è il secondo metodo che andiamo a vedere oggi? il secondo metodo è quello appena sopra DDU oggi ne vedremo 4 comunque DDU è un buon metodo di spedizione anche perché cosa vuol dire DDU? partiamo dall'inizio DDU è l'acronimo quindi sta per Delivery and Duty Unpaid cosa vuol dire? che noi non paghiamo in anticipo alla fabbrica tutte quindi non paghiamo in anticipo alla fabbrica IVA ed aziodo canali cosa vuol dire? che la fabbrica utilizza un suo spedizioniere che ovviamente noi dobbiamo sapere che spedizioniere è può essere che ne so FedEx DHL TNT qualunque anche uno privato magari per spedire quindi dalla Cina dalla sua fabbrica fino alla dogana italiana la nostra merce quindi la fabbrica è responsabile di quella merce fino alla dogana italiana siamo poi noi a dover assumere tra regolette uno spedizioniere internazionale che può essere Faircam può essere Savino del Bene può essere DHL FedEx quello che volete ok per far sdoganare la merce qual è il vantaggio di questa cosa? è che vantaggio e svantaggio adesso andiamo a ridurre tutti il vantaggio è che siamo sicuri di ricevere la bolla doganare perché? perché lo spedizioniere internazionale che può essere uno di questi qua che ho nominato poco fa sicuramente segue tutte le procedure quindi fa sdoganare in modo corretto la merce e noi abbiamo la nostra bellissima bolla doganale ok? qual è l'altro vantaggio? l'altro vantaggio di questa tipologia di spedizione è che noi diciamo dobbiamo contattare uno spedizioniere internazionale che può essere uno di questi che ho detto poco fa e gli chiediamo anche una cosa molto importante le certificazioni necessarie per sdoganare quella merce ok? perché se voi non avete le corrette certificazioni per sdoganare il tipo di merce che volete far entrare in Italia nell'Unione Europea se non avete le corrette certificazioni quel prodotto non passa alla dogana e rimane bloccato finché non arrivano le certificazioni se voi non riuscite ad ottenere le certificazioni quel prodotto non passa alla dogana questo è un grande vantaggio perché? perché chiedendo in anticipo uno spedizioniere internazionale di quali certificazioni abbiamo bisogno per far sdoganare quella merce noi abbiamo la possibilità di chiederle prima ancora di acquistare alla fabbrica cinese se poi la fabbrica cinese le ha bene lavoriamo insieme mi produce questo prodotto te lo pago e me lo spedisci ok? quindi la parte delle certificazioni facciamo fare una live nella prossima live parleremo di certificazioni è molto molto importante sono tutti argomenti che sono fondamentali e davvero troppo troppo trascurati sono delle cose fondamentali davvero importanti adesso riduco un pochino perché qua vedete DDU spese e rischi escluso lo scaricamento del mezzo del venditore ok? va bene questo qua è molto semplice quindi in questo nella spedizione DDP non lo spedizioniere il venditore scusate vedete la striscia verde è responsabile della spedizione quindi se noi facciamo spedizione DDP o DDU ok? il venditore quindi la fabbrica è responsabile di quella spedizione fino fino a che non arriva a casa nostra e noi siamo solo responsabili di ciò che riguarda lo scarico della merce dal furgone diciamo dal camion in casa nostra ok? siamo solo responsabili di quello in DDU invece la fabbrica è responsabile fino alla dogana poi alla dogana viene scaricata sdoganata e caricata su un altro furgone però la fabbrica è responsabile fino alla dogana poi da lì in poi siamo responsabili noi ok? quindi è bene fare un'assicurazione su quella merce perché? perché se quella merce viene danneggiata è grave è grave perché noi non siamo assicurati e non possiamo chiedere nessuno in borsa su quella merce non abbiamo un'assicurazione quindi è bene fare un'assicurazione anche se ha un costo però è un'assicurazione serve come per la macchina per i mezzi per i mezzi che circolano sulla strada un'assicurazione molto importante perché ci copre al 100% ok? vediamo un altro metodo di spedizione quindi questo metodo di spedizione qua è consigliato io ve lo consiglio un buon metodo dopo parliamo anche di Paypal e Trade Assurance perché DDU quello che vi consiglio io anzi ve lo dico dopo perché è una cosa a parte e voglio tenervela per dopo andiamo avanti un altro metodo che diciamo che è quello che utilizzo di più io è EXV e FIUB lo vediamo dopo EXV vuol dire EXWORKS o Franco Fabbrica è un buon metodo di spedizione e forse quello più lavorioso cosa vuol dire che noi siamo noi a gestire la spedizione quindi siamo noi che dobbiamo contattare uno spedizionero internazionale che può essere uno di quelli che ho già detto prima quindi Fertam Savino del Bene FedEx DHL TNT ce ne sono tanti vi sconsiglio di andare a lavorare con spedizionieri piccoli quindi davvero molto piccoli perché non sono abbastanza esperti nell'importazione pagate un po' di più magari però andate a lavorare in modo sicuro ok molto importante questa cosa non cercate di risparmiare veramente 50 euro per poi rischiare di rovinare la vostra merce avere dei problemi con la spedizione non fatemi quindi EXV come abbiamo appena detto vuol dire EXWORKS o Franco Fabbrica e il metodo di spedizione è che io utilizzo di più quello che preferisco anche se è il più come ho detto prima laborioso cosa voglio dire che noi dobbiamo gestire la spedizione fino dalla fabbrica cinese cosa vuol dire che la fabbrica cinese produce il nostro prodotto che gli abbiamo ordinato poi noi dobbiamo contattare uno di queste spedizioni che la vadano a ritirare fino alla fabbrica cinese non c'è più la fabbrica che utilizza un suo spedizioniere quindi che organizza la spedizione fino alla dogana dogana italiana ma siamo noi tramite uno spedizioniere internazionale che dobbiamo andare in Cina quindi non noi lo spedizioniere ovviamente a prelevare la merce dalla fabbrica cinese poi ovviamente lo spedizioniere internazionale arriva fino alla dogana italiana sdogana la nostra merce e ce la porta dove vogliamo quindi all'indirizzo di destinazione che può essere casa nostra o il magazzino di Amazon ok una cosa che dico adesso ma è un consiglio un consiglio è uno sconsiglio adesso ve lo dico quello che vi consiglio di fare è farvi spedire la merce a casa per almeno i primi due ordini perché questo? perché ci sono tantissime fabbriche ho veramente sentito ho fatto delle consulenze anche con dei ragazzi che hanno avuto dei problemi perché le fabbriche gli mandano delle foto e poi il prodotto che in realtà diciamo è all'interno dei delle scatole degli scatoloni non è lo stesso che hanno visto nelle foto è un grosso problema perché noi abbiamo già spedito tutto ad Amazon e farsi rispedire tutto indietro è solo tanto lavoro in più tanto tempo perso spedire da casa vostra ad Amazon ok io abito in provincia di Torino ho spedito a Roma perché tante volte spedisco mi da come centro logistico quello di Roma lì lo fai in automatico in base alla quantità di prodotti che vogliamo stoccare in base al posto che c'è all'interno del magazzino ci mette veramente due o tre giorni al massimo quindi non ha senso sprecare diciamo solo per risparmiare due o tre giorni andare a fare prendersi questi rischi ovviamente ha un costo quindi io vi faccio un esempio io uno degli ultimi ordini che ho spedito erano 385 kg se non sbaglio le ho spedite a Roma mi è costato 275 euro però sono contento di aver fatto questa spesa perché almeno sono sicuro di di andare a vedere a controllare prima poi una volta che avete un rapporto di fiducia con questa fabbrica con cui state lavorando potete direttamente spedire dalla fabbrica al magazzino di Amazon assolutamente però per almeno i primi due ordini due barra tre ordini vi consiglio di farvi spedire la merce a casa proprio per questo tipo di problema ok è un mio consiglio personale ovviamente ognuno fa come vuole però si sentono spesso persone che per velocizzare questa cosa spediscono direttamente al magazzino di Amazon e poi rimangono fregati tra virgolette anche perché poi la merce non è più la stessa poi adesso parliamo anche di contratti di trade assurance perché c'è qualcosa da dire quindi EXV vantaggi e svantaggi quali sono i vantaggi è che noi sappiamo in anticipo tutti i costi cosa vuol dire in realtà con tutte le tipologie di spedizione sappiamo in anticipo tutti i costi però quindi anche per questa quindi IVA e Dazzido Ganali sappiamo in anticipo quanto ci costano in base al tipo di merce che vogliamo importare al peso alle dimensioni ok e ai pezzi ovviamente al numero di pezzi e sappiamo esattamente quanto ci verrà a costare la spedizione perché contattando uno spedizioniere internazionale intanto possiamo richiedere un preventivo possiamo scegliere quello che ci fa un preventivo tra virgolette più basso sappiamo in anticipo il costo di questa spedizione l'altra cosa molto molto importante è che noi possiamo chiedere allo spedizioniere internazionale anzi dobbiamo chiedere allo spedizioniere internazionale quali certificazioni sono necessarie per sdoganare quella merce è una cosa molto importante guardate la prossima live perché parliamo di certificazioni ed è una cosa davvero molto importante molto interessante guardatela perciò exv molto molto consigliata l'ultima che vediamo oggi è fob o fob scegliete voi come chiamarla franco a bordo e frio a bordo scegliete voi e come vedete qui una cosa non detto in exv una cosa molto importante se vedete qui è l'unica che ha tutta la linea gialla ok quindi qui vedete c'è scritto spese e rischi anche per il caricamento sul mezzo del compratore ok compratore siamo noi cosa vuol dire che la fabbrica non è responsabile di niente neanche del caricamento della vostra merce sul camion dello spedizioniere qual è la cosa che dovete fare assolutamente come per ddu la cosa che dovete fare assolutamente è fare un'assicurazione ok l'assicurazione è fondamentale perché vi copre al 100% nel caso ci siano danni alla vostra merce durante la spedizione durante il caricamento di questa merce soprattutto se sono prodotti delicati ok se sono prodotti delicati intanto chiedete alla fabbrica di prima di tutto di confezionarveli in modo corretto è il modo più sicuro possibile anche perché vi posso assicurare che se voi non avete mai fatto spedizioni non avete mai importato niente quindi volete iniziare ma non avete ancora iniziato quello che vi posso assicurare che non vengono assolutamente trattati bene questi scatoloni a me sono arrivati parecchie volte scatoloni con i buchi ok quindi non vengono maneggiati con cuore li lanciano questi scatoloni quindi è molto importante che siano impacchettati tra virgolette che le confezioni siano più sigillate il prodotto sia più fermo possibile non sballonzo le siano rischia solo di danneggiarsi soprattutto se è un prodotto delicato perciò qui molto importante assolutamente l'assicurazione fate l'assicurazione se fate questa tipologia di spedizione FOB è l'ultima che vediamo oggi come ho detto prima vuol dire franco board o free on board vedete qui c'è metà e metà più o meno in realtà è più gialla che verde più arancione che verde è utilizzata per il 99% delle volte per spedizione navale FOB cosa vuol dire che la fabbrica cinese porta la merce è responsabile della merce fino al porto d'imbarco ok dal porto d'imbarco quindi una volta che la merce è sulla nave in poi dobbiamo essere noi tra virgolette tramite uno spedizionero internazionale ovviamente non possiamo essere noi direttamente volendo in realtà sì però contattate uno spedizionero internazionale che siamo noi a gestire la spedizione quindi da qui ok da qua scusate da qui in poi assolutamente assicurazione e spedizionero internazionale la fabbrica è diciamo copre è responsabile scusate della merce solo dalla sua fabbrica fino al porto d'imbarco da lì in poi noi siamo responsabili della merce e ogni volta che noi siamo responsabili di qualcosa se c'è la possibilità facciamo un'assicurazione mettiamo una garanzia su quella merce se no rischiamo solo di buttare via dei soldi FOB è utilizzata spesse volte per per importare prodotti che pesano quindi sopra i 500 kg sotto i 500 kg quello che vi consiglio di fare di fare spedizioni via treno spedizioni via treno non è molto utilizzata ma funziona bene io utilizzo sempre quella perché importo la maggior parte delle volte prodotti che pesano più di 300 kg ma meno di 500 quindi faccio spedizione via treno perché ci mette un tempo abbastanza ragionevole un mese e mezzo due più o meno costa in modo ragionevole una via di mezzo e quindi è una cosa diciamo ponderata mentre la spedizione via nave è più lunga è meno costosa però ci mette di più ci va almeno due mesi e mezzo non prima almeno due mesi e mezzo quindi sta a voi ovviamente in base al prodotto che dovete importare scegliere un tipo di spedizione quindi un tipo di scusate di mezzo di trasporto piuttosto che un altro quindi anche un metodo di spedizione visto che FOB viene sempre viene praticamente sempre utilizzata quando si fa spedizione via nave perciò sta a voi scegliere la tipologia di spedizione cosa vi consiglio io allora quello che vi consiglio di fare io è di fare o EXV ok oppure DDU non fate DDP lasciate perde come ho già detto prima non è il problema del metodo di spedizione ma il problema sono le fabbriche che fanno le furbe e poi ci guadagnano tutte le tipologie di spedizione sia DDP che DDU e anche in realtà FOB poco in realtà perché hanno poco tragitto poi in realtà appena arrivano al porto di imbarco la caricano sulla nave quindi niente ma in DDP e DDU che le fabbriche utilizzano un loro spedizioniere ok che può essere uno qualunque dalla loro fabbrica alla dogana italiana loro ci guadagnano su quelle spedizioni quindi vi costerà di più sicuramente al 100% se voi invece fate tipo EXV oppure FOB vi costerà di meno un pelo di meno FOB sicuramente che costa proprio di meno la spedizione FOB EXV vi costa anche di meno perché nella fabbrica non ci guadagna sulla spedizione ok vi costerà un po' di meno non tanto di meno non è che vi costerà 1000 euro di meno ma vi costa un po' di meno ok quindi ha anche questo vantaggio quello che vi consiglio di fare io quindi è o EXV o DDU per un carico che va da 0 a 500 kg se voi invece dovete importare prodotti che pesano di più di 500 kg fate FOB quello che dovete fare in realtà è capire benissimo la prima volta quali sono le tempistiche di spedizione una volta che avete capito le tempistiche di spedizione fatemi la corretta pianificazione delle spedizioni successive cosa voglio dire io per esempio quando faccio i reforecast tramite le mie tabelle di pianificazione e controllo tra l'altro farò una live solo solo sul business controlling parlerò solo di quello perché è un argomento veramente incredibile e importantissimo quando vado a fare i reforecast solo esattamente quando riordinare la merce ok per evitare di rimanere out of stock rimanere out of stock è abbastanza grave perché voi scendete di ranking quindi tutti i soldi che avete speso per far rancare il vostro prodotto saranno buttati capito ok quindi quello che dovete fare è capire qualsiasi spedizione voi fate capire quale quanto ci mette la la spedizione ad arrivare nel magazzino di Amazon quanto tempo ci mettete in totale una volta che avete capito questo vi fate una corretta pianificazione e non avete nessun tipo di problema perché avendo una corretta pianificazione sapete già quando ordinare la merce sapete già quando vi arriverà poi ovviamente tenetevi abbastanza larghi perché ci possono essere degli intoppi quindi magari una festività sotto le festività tante volte mi è capitato per esempio era appena passato il Natale quindi dopo Natale quindi nelle feste di Natale Capodanno non Capodanno cinese Capodanno soprattutto in Polonia mi è capitato che per il Capodanno fanno tipo una settimana di ferie quindi è rimasta di bloccata due settimane in più questa merce quindi in quel caso lì tenetevi un po' larghi ok evitate magari di fare delle pianificazioni corrette al giorno perché se c'è poi un problema riguardante la spedizione o un ritardo o quello che sia rimanete autostocche non volete fare queste cose qua quindi tenetevi larghi quando fate le pianificazioni assolutamente perciò queste qua sono le tipologie di spedizione che vi consiglio quindi DDU e XV per un carico da 0 a 500 oppure FOB quindi via nave per un carico da 500 kg in su parlo da 0 a 500 intenevo chili invece per carichi minori quello che vi consiglio di fare spedizione via treno quindi o DDU o XV spedizione aerea perché no o voi importate 50 cover per il cellulare che pesano 2 kg ma se no la spedizione via aereo costa davvero tanto quello che potete fare volendo ma non ha molto senso incasinarvi così anche perché se avete una corretta pianificazione non avete nessun tipo di problema ve lo posso assicurare quello che potete fare è fare spedire magari il 20% via aereo e il restante 80% via treno ok perché questo perché via aereo ovviamente ci mette molto molto meno ci mette 3-4 settimane massimo anche meno a volte io non ho mai fatto spedizione via aereo però so che ci mette così perché ho degli amici che lo fanno e ci mette davvero poco io ho sempre utilizzato spedizione principalmente via treno mi trovo bene via treno con AXV tra l'altro e va benissimo parliamo un attimo di contratto trade assurance barra paypal allora quale scegliere quello che io vi consiglierei di più ok è fare paypal perché soprattutto con ddu ma in realtà non solo con ddu quello che si qua potete fare ddu più paypal qui stessa cosa fb più paypal oppure xv più paypal perché paypal perché paypal è un po' come amazon è dalla parte il 99,9% delle volte del cliente e clienti in questo caso siamo noi che acquistiamo questa merce quindi siamo molto più sicuri che con contratto trade assurance il contratto trade assurance se voi vi leggete bene le clausole di questo contratto intanto a prescindere deve esserci incluso tutto quello che riguarda il prodotto e la spedizione quindi peso dimensioni costo tipologia di pagamento metodo di spedizione tempistiche di spedizione se avete un logo colore tutto veramente tutto molto importante questa cosa qua perché nel caso dovete chiedere un rimbosso per esempio se voi non indicate il colore della merce poi vi arriva di un altro colore non potete chiedere il rimborso un esempio molto banale tuttavia il contratto trade assurance se voi vi leggete bene le clausole le clausole scusate è abbastanza limitante cosa voglio dire che per chiedere il rimborso è veramente spassatemi il termine il termine una sbatta è veramente una sbatta chiedere il rimborso tramite il contratto trade assurance a me non è mai capitato anzi vi sconsiglio di chiedere il rimborso se tarda un minimo la spedizione cosa voglio dire a me una volta la spedizione eternata di tre settimane non ho fatto il rimborso perché perché se voi fate il rimborso quindi tramite il contratto trade assurance chiedete questo rimborso cosa fa la merce intanto deve tornare alla fabbrica ok e poi ve la devono rispedire quindi ci mettete solo molto di più e non ha senso ci può stare cercate di parlare con le fabbriche le fabbriche cercano solo di fare il loro lavoro non ne possono niente non è colpa loro è colpa di spedizionieri ok quindi non ha senso andare a chiedere il rimborso per due settimane due tre settimane forse anche un mese di ritardo perché poi se la merce deve tornare indietro alla fabbrica e poi la fabbrica deve spedirvela di nuovo a voi ci mette davvero molto molto di più ok adesso intanto cambio la situazione qui no ok così mi vedete in faccia e ok eccoci qua stavo dicendo Trade Assurance o Paypal il contratto Trade Assurance quindi è un po' limitante perché stavo dicendo nel caso ci fosse qualche problema vogliono che le foto quindi questo prodotto che non è corretto sia fatto dallo spedizioniere e non da voi ed è una cosa quasi impossibile fare questa cosa qua quindi la fabbrica non vuole che le foto le facciate voi del prodotto che non va bene questa è una cosa importante per cui nel caso ci fossero problemi intanto qui adesso vedo delle domande se tra poco vi rispondo non vi preoccupate avevo lo schermo girato anch'io non l'ho vista adesso vi rispondo quindi Paypal invece Paypal copre al 99% il cliente quindi fino a che che voi non diciamo quel prodotto non va bene e glielo dite a Paypal vi chiederà ok Paypal non pagherà la fabbrica quindi se voi quel prodotto lì non vi va bene quindi non è corretto voi ovviamente dovete fare un contratto anche se fate Paypal dovete stipulare un contratto scritto con la fabbrica quindi non fare trade assurance ma anche un foglio award un contratto in cui inserite tutti tutti non i termini si i termini del contratto cosa voglio dire tutte le cose che includereste nel contratto trade assurance è una cosa molto importante perché se voi stessa cosa vi arriva un colore piuttosto che un altro Paypal non può farci niente se voi non avrete fatto un contratto ok è una cosa importantissima quello che vi consiglio quindi è Paypal qual è il problema Paypal ha il 4% di fees e ovviamente la fabbrica lo sa e ve le farà pagare quindi 4% di fees su 1000 euro sono soldi già su 5000 euro sono soldi su 10.000 euro sono soldi più aumenta il prezzo di acquisto e più aumenta la fee di Paypal perché non è una transazione tra amici e familiari è una transazione per acquisto di beni quindi la fee del 4% ce l'avete mentre tramite contratto trade assurance potete pagare o con carte di credito quindi avete carta di credito o quello che è sì carta di credito tutte le tipologie di carte di credito che ci sono e avete il 2,95% di fee oppure tramite metodo TT se andate su Alibaba lo vedete che non vuole nient'altro che bonifico bancario bonifico bancario io ho già pagato con bonifico bancario non ho avuto problemi perciò ve lo consiglio se volete volete fare tramite bonifico bancario non è un problema però io mi sento più di consigliarvi Paypal perché siete molto molto più coperti tramite Paypal dovete comunque fare un contratto con la fabbrica però fate Paypal quello che vi consiglio è fare Paypal anche se ovviamente dovete pagare questa fees ok potete fare trade assurance una volta che voi avete già installato un rapporto di fiducia con la fabbrica cosa voglio dire che siete sicuri che quella fabbrica vi manda il prodotto che vi dice quindi magari siete già al terzo quarto ordine la fabbrica sta guadagnando con voi non avrebbe nessun guadagno dal mandarvi un prodotto diciamo che non rispecchia quello che voi avete ordinato perché voi non andrete più a lavorare la fabbrica non può lavorare con la fabbrica ovviamente e quindi loro perderebbero i soldi che gli date voi quindi non lo farebbero mai la prima cosa che dovete fare ancora prima è scegliere una fabbrica valida andatevi a vedere la live sulle fabbriche su quale fabbrica scegliere come scegliere la fabbrica perché ci sono un sacco di consigli importanti allora rispondo alle domande qui mi è stato chiesto ciao Luca come faccio a fare in modo che nel mio annuncio si veda il prezzo originale barrate e poi quello di sconto mi pare di aver già risposto nella scorsa live ormai per avere questa cosa qua devi avere uno sconto non so è una cosa un po' difficile da dire così dovevi farti vedere per avere questo sconto se tu vai all'interno di seller central quando inserisci l'annuncio ci sono due tipologie di prezzo prezzo c'è prezzo e poi prezzo scontato per vedere per far si che si veda il prezzo scontato all'interno del tuo annuncio quindi della pagina su amazon deve esserci una differenza tra queste due cose qua del 35% circa il 35% una cosa del genere qual è il problema è che tu comunque le fees le vai a pagare sul prezzo quindi e non sul prezzo scontato e quindi magari vai a pagare molte più fees e non conviene andare a pagare più fees solo per avere il prezzo scontato non conviene assolutamente ok seconda domanda ho provato a modificare da gestisci il tuo inventario ah non è una domanda scusate ho provato a modificare da gestisci il tuo inventario ma compare solo quello più basso senza quello più alto cancellato assolutamente sì e questo qua il problema non è da tanto che amazon l'ha inserito sarà circa tre mesi questa nuova legge chiamiamola così questo KPI però per far sì che si veda questo prezzo quindi prezzo barato e poi quello scontato deve esserci una variazione tra il prezzo e il prezzo scontato se va all'interno di seller central quando vai su modifica annuncio su offerta si vede dove sicuramente c'è prezzo e poi prezzo scontato deve esserci una variazione tra il prezzo e il prezzo scontato di circa il 35% poco meno ok se vuoi un valore più preciso vai chiedi l'assistenza chiedi contatto a amazon chiedi a loro te lo diranno io non mi ricordo comunque io non lo faccio solitamente perché si andrebbe a pagare solamente più fees solo per avere il prezzo scontato e non è che questo avere il prezzo scontato abbia un buon tasso di conversione non è che cambia anche perché se guardi ormai a meno che non andiamo su prodotti un po' particolari davvero pochi ce l'hanno comunque andiamo avanti ho anche provato a scrivere ad amazon e hanno detto che c'è stato un aggiornamento per cui non si vede più quello cancellato ma solo quello più basso grazie in anticipo si ti hanno detto più o meno una cavolata forse magari anche perché io ho avuto dei problemi a contattare amazon adesso vi dico questa cosa che non è che c'entra molto a volte ho contattato amazon chiedendogli la stessa cosa e ho ricevuto risposte diverse quindi comunque questa cosa quale ti ho detto sono sicuro perché l'ho letto per avere il prezzo scontato deve esserci questa differenza di circa il 35% poi però vedo molti annunci con ancora il prezzo barato e poi quello più basso dipende in che categoria io ultimamente non ne sto vedendo molti sinceramente adesso non è che viaggio tutto il giorno su amazon.it o .com quello che è però comunque so che ci deve essere questa cosa quindi una differenza tra prezzo e prezzo scontato del 35% se no non ti fa più vedere il prezzo scontato ma te lo sconsiglio di farlo perché se no vai solamente a pagare più fees perché ricordati che le referral fees che sono le commissioni di vendita quindi le commissioni per segnalazione vengono chiamate che si chiamano referral fee si basano quindi vengono calcolate sul prezzo e no sul prezzo totale non sul prezzo scontato quindi più tu alzi il prezzo più pagherai di fee anche se poi il tuo prezzo è reale e quello scontato quindi non ha molto senso ok non ne vale la pena per il CT il CTR che porta non il CTR scusate per il tasso di conversione che porta non ne vale assolutamente la pena non farlo te lo sconsiglio comunque niente spero di essere stato abbastanza chiaro se avete delle domande come sempre qui sotto in questa live l'oggetto all'inizio della live ma lo vi dico anche adesso se avete delle domande riguardante a questo argomento oppure altri argomenti che volete vedere all'interno di questo canale trattato in live oppure in video a parte fatemelo sapere farò una live vi risponderò farò magari una live di solo risposte in cui rispondo alle domande in modo totalmente gratuito e non sprecate questa opportunità lo dico sempre ma niente lo dico sempre perciò vi ricordo di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto supportatemi cerco di dare più valore possibile a voi che seguite i miei video che seguite anche se state sul mio canale per seguire i miei video non penso peraltro e niente questa live è durata un pochino meno del solito siamo a 46 minuti però qui mi è stata fatta un'altra domanda dall'america è satura abbastanza non è che è satura qual è il problema è che in italia non è per niente saturo il mercato in america hai bisogno di molto più budget per iniziare cosa voglio dire è che per vendere in america intanto devi la spedizione ti costa di più perchè dalla cina all'america c'è più strada che dalla cina all'italia ok quindi ti costerà di più la spedizione poi me l'ha detto anche lui che lui ha clienti che adesso si stanno spostando nel mercato americano e hanno dei problemi perchè devono trovare qualcuno che gestisca la fiscalità là in america perchè non è uguale qua in italia è completamente diversa quindi è un po' una cosa nuova impegnativa secondo me pochi lo stanno facendo e poi ti costerà molto di più lanciare un prodotto nel mercato americano perchè è molto molto più saturo il mercato quindi sicuramente gli spesi di lancio del prodotto molti di più quindi budget di investimento per il mercato americano molto molto più alto che per quello italiano o europeo in generale che può essere spagnolo francese tedesco se uno ha 100k in america si fanno i big money a 100k in che senso quindi che vende un prodotto che fattura 100k o che ha 100k da investire comunque si se hai 100.000 euro da investire nel mercato americano vai più che bene non è nessun problema sicuramente quello che ti consiglio se vuoi iniziare nel mercato americano fai attenzione può ah si si può investire 100k si non è assolutamente problema 100.000 euro sono davvero tanti io ho investito molto 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 meno quando sono partito mi sono partito nel mercato italiano quindi si con 100k non c'è assolutamente nessun problema quello che però è da fare molto è la curiosità chi li tiene ok si il problema è questo se tu hai intenzione di iniziare nel mercato americano e hai quei soldi lì assolutamente te lo consiglio perché avrai sicuramente più fattorerai molto di più perché ovviamente la quantità di clienti in amazon.com è molto molto più alta rispetto a amazon.it o amazon.es che è quello spagnolo è molto molto più alta c'è poco da dire comunque ovviamente ci vuole un budget di investimento molto ero partito con 6.000 euro una roba del genere perché io ho lavorato qualche mese da dipendente quindi avevo messo da parte qualche soldo e poi ho iniziato però diciamo nel mercato americano è molto più difficile molto molto più difficile partire rispetto a quello italiano oppure a quello europeo ecco anche se comunque nell'unione europea ci sono paesi in cui non è la francia anche sono mercati un po' più competitivi un'altra domanda non è una domanda scusate di nuovo in italia almeno 3k per non scontrarti con tanta concorrenza sì non meno di 3.000 euro te lo sconsiglio vivamente ma assolutamente questa domanda qua non è che non è di nuovo una domanda non so perché mi viene a dire la domanda comunque questa cosa qua quando ci sarà la live sul pianificazione e controllo del business farò vedere questa cosa qua che è davvero una cosa importantissima ovvero determinare il budget che mi serve per iniziare in base al prodotto che voglio vendere cosa voglio dire se io voglio iniziare a vendere una tipologia di prodotto che sia un mouse per esempio quello che sia se quel budget che ho in base alla competizione che ha quel prodotto quindi i costi di lancio del prodotto quante vendite ha questo prodotto posso permettermelo oppure no è una cosa importantissima ti consiglio di guardarla perché troverai tante risposte tutti si buttano su bavaglini correttore postura e cose del genere ho visto sì esatto correttore postura tra l'altro io ho parlato con un ragazzo che lui vuole iniziare a vendere nel mercato spagnolo mi ha contattato e mi ha detto che sta avendo dei problemi sta cambiando totalmente prodotto perché non ha ancora iniziato a vendere ma pensava di vendere quello ma ha avuto dei problemi perché il correttore di postura tutti pensano che sia una cosa così che la compro e la vendo assolutamente no il correttore di postura è un dispositivo medico dispositivi medici hanno bisogno di certificazioni ti chiedono anche se tu sei un dottore oppure no non è una cosa così semplice andare a vendere quelle cose lì se lo fai senza certificazioni sicuramente Amazon ti becca dopo un po' non è che puoi star tranquillo così vendendo cose a sgamo tra l'altro vedo che la qualità dello stream non è al massimo scusatemi ma non so perché può darsi che la connessione non sia abbastanza veloce comunque si tutti si buttano su Bavaglini correttore postura si si buttano su Bavaglini sai perché? perché la categoria è prima infanzia tutti pensano che la prima infanzia sia una categoria in cui va da dio si vende si capito però non è che tutti vanno sulla prima infanzia quindi si aumenta solamente la competizione secondo me si la prima infanzia è una buona categoria però sicuramente ci va più budget per iniziare una categoria come la prima infanzia intanto sulla prima infanzia devi andare tantissimo sulla qualità del prodotto perché non tanto sul prezzo perché io per esempio dovessi comprare qualcosa per mio figlio io non ho figli io ho solo 20 anni quindi però dovessi comprare qualcosa per mio figlio se c'è una cosa che costa 20 euro una cosa che costa 50 e sembra identica convoco la che costa 50 senza tanti problemi perché sono sicuro che c'è una differenza tra un prodotto che costa 20 e uno 50 però ovviamente deve esserci quindi ancora di più in quella categoria la qualità del prodotto deve essere al top quindi il meglio possibile perché se vendi un prodotto che fa schifo i genitori dei bambini che magari comprano queste cose qua una cosa da capire che è importante è che si nota è che le persone quando gli chiedi di lasciare una recensione positiva non positiva un'onesta recensione magari lo fai tramite jump send quindi tramite o active campaign quello che volete quindi email automatiche quando un prodotto va bene non hanno voglia di lasciare una recensione però quando un prodotto va male quindi ha dei problemi o non gli piace non rispecchia quello che si immaginava non ci metteranno davvero poco a rilasciare una recensione negativa sono molto più spinti da rilasciare una recensione negativa che una positiva è una cosa abbastanza brutta da pensare però è vero quando una persona è arrabbiata magari per un prodotto a rilasciare una recensione negativa ci mette veramente due minuti mentre lasciare una recensione positiva se il prodotto gli va bene sì ma sì non importa la recensione mentre il prodotto non gli piace la recensione negativa la lascia sicuro credetemi perciò molto importante come sempre la qualità del prodotto di quello che offrite che sia un prodotto su Amazon che sia qualcos'altro ciao sono sempre io ho appena provato a mettere il prezzo alto a 16,99 e quello di sconto a 11,49 ma ancora non compare quello cancellato grazie mille adesso non so bisognerebbe fare un calcolo se la variazione è del 15 per più del 35% comunque non lo so quanto sia questa cosa qua se è del 35% o di meno comunque magari quello che ti consiglio di fare prova a contattare di nuovo Amazon se ti rispondono tipo quelli della Polonia chiedigli di farti passare tipo la logistica italiana io l'ho fatto più volte per ottenere una risposta più sensata perché a volte non capiscono proprio bene la lingua perché rispondono sempre dalla Polonia a meno quando chiamo io poi non sono gli altri comunque quello che ti consiglio di fare fatti passare la logistica italiana chiedi a loro una spiegazione valida tra l'altro interessa anche a me questa cosa anche se a me non è che mi cambia la vita questa cosa qui non mi interessa più di tanto ma comunque se danno una risposta scrivimi dove vuoi fammelo sapere che mi interessa è tipo del 35% lo sconto ok niente ti consiglio di fare questa cosa qua quindi contatta la logistica fatti passare la logistica in Italia io lo chiedi te la passano non c'è problema e chiedigli questa cosa se trovi una soluzione fammelo sapere scrivimi dove vuoi tu cosa intendi per variazione la variazione intendo la differenza quindi si il 35% di sconto se lo sconto è del 35% in questo caso mi dici tu va bene è strano che non esca il prezzo scontato può darsi che l'hanno limitato a qualche categoria quindi può darsi che sia successa questa cosa fai questa cosa che ti ho consigliato quindi contatta la logistica ti rispondevano dalla Polonia fatti passare la logistica italiana e chiedi a loro sicuramente loro capiscono bene io ogni volta che contatto la logistica italiana ho ottenuto delle risposte ottengo delle risposte sensate corrette diciamo che mi aiutano anche se adesso le cose diciamo già le so non voglio essere presuntuoso ma le cose che mi servono non le so però comunque quando ho iniziato tante cose le ho chieste perché non le sapevo e mi hanno dato delle risposte molto più sensate quelle della logistica italiana rispetto a quelle che ti rispondono dalla Polonia per le cose banali magari sì ma per queste cose qui magari un po' più specifiche contatta la logistica italiana ok va bene perfetto perciò ragazzi io chiuderei questa live anche perché alla fine siamo orari se non è così fatemelo sapere un feedback fa sempre piacere se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale perché ovviamente ne gioverete voi e niente se vi è piaciuta questa live mettete un like mi fa molto molto piacere e noi come sempre ci vediamo nella prossima live ciao ragazzi